Un San Nicola così che cavalca sui tetti e si mette a capo di una banda di assassini uccidendo chiunque gli capiti a tiro, bambini compresi, non può che fare scalpore. E anche se il regista è un maestro del genere horror, l'olandese Dick Maas, lo sconcerto resta tutto. E non solo nel mondo cattolico ma anche nella stessa Olanda protestante, dove San Nicola è molto amato come negli Stati Uniti. Il titolo del film è Synth e sta spopolando nei Paesi Bassi. Padre Gerardo Cioffari, direttore del Centro Studi Nicolaiani, apprezza la fattura artistica del film ma sottolinea che questa immagine truculenta di San Nicola pare proprio essere una grande trovata pubblicitaria. Cosa può averlo spinto? È un po' difficile. Certo è che è stata un'azione di marketing, come lui stesso riconosce, particolarmente importante perché è andata a toccare quella che è considerata la tradizione più popolare. Ma questo film riuscirà in qualche modo a scalfire il culto di San Nicola nel mondo? C'è una crisi di vivacità di culto ma la diffusione delle chiese, delle feste è talmente grande che qualsiasi decisione ecclesiastica o di registi in questo caso che sono andati a incrociarsi anche con le autorità ecclesiastiche però la devozione popolare è talmente forte che io dubito che come non ci sono riusciti le autorità ecclesiastiche sia protestanti che cattoliche non ci riuscirà neppure questo film.